Tra le più recenti cause di incidente alla guida c'è l'utilizzo del cellulare, un dispositivo che sposta l'attenzione del guidatore dal veicolo al cellulare stesso e che quindi può distrarre, può far sì che il conducente non dia correttamente la precedenza, può far sì che egli possa tamponare una vettura o addirittura che egli possa finire fuoristrada. Proprio per questo motivo l'utilizzo del cellulare alla guida è fortemente sanzionato con una multa alla prima infrazione e addirittura la sospensione della patente se il fatto si ripete. Nonostante i aumenti, il numero di violazioni e di infrazioni per chi utilizza un cellulare durante la marcia su tutto il territorio nazionale, il tasso di incidentalità dovuto alle distrazioni a causa di questo dispositivo è assolutamente tristemente in aumento. E' quindi assolutamente fondamentale per la propria sicurezza e soprattutto per quella degli altri, per quella dei pedoni, dei motociclisti e dei ciclisti, utilizzare dispositivi bluetooth che consentono di dialogare in tutta sicurezza all'interno della macchina ed è tassativamente vietato l'utilizzo di app come Whatsapp e Facebook. E' bene ricordare che la curiosità di voler leggere un messaggio, la voglia di inviare una fotografia può essere fatale per noi e per chi con noi è sulle strade.